Ciao bambini, come va? State tutti bene? Sapete che mi mancate tanto. Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato, ho proprio voglia di raccontare una storia ai miei bimbi. Siete pronti? Tutti zitti, tutti buoni, c'è una storia nuova, nuova, la racconto piano piano e ci porterà lontano, lontano, lontano. Dunque c'era una volta uno strano mostriciattolo. Si chiamava Covid-19 e aveva la forma di una corona. Sì sì, una corona, come quelle che facciamo noi per i compleanni ed è per questo che tutti lo chiamavano corona. Questo mostriciattolo era piccolo, 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 ma così piccolo che nessuno riusciva a vederlo. Era invisibile. Eppure c'era ed era anche un pochino monello. Pensate un po', gli piaceva nascondersi nelle mani delle persone e quando queste mettevano le mani in bocca ecco che lui ne approfittava subito per rinfilarcisi dentro. E sapete cosa faceva lì dentro? Faceva tanto il monello, iniziava a correre dappertutto, buttava tutto all'aria, era sempre arrabbiato e le persone si sentivano strane e si ammalavano. Ora questo Covid si sta girando vicino a Saronno e gli piace molto andare nelle scuole. Ai 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 Covid, ti è andata male. Il nostro sindaco e tutti i sindaci hanno deciso di farti uno scherzetto. Hanno chiuso tutte le scuole, così quando arrivi non ci trovi, non trovi nessuno, cipi di merlo. Ah che ridere, proprio un bello scherzetto per Carnevale. A Carnevale ogni scherzo vale Covid. Quindi bimbi stiamo tutti a casa e mi raccomando, come dico sempre, lavatevi bene le mani. Prima si sciacquano, poi si insaponano per bene da tutte le parti, anche in mezzo alle dita e sotto alle unghie. Così se per caso Covid è arrivato sulle vostre mani, lo cacciate via subito e finisce nel buco del lavandino, che è proprio quello che si merita. Brutto monello. E mi raccomando, niente mani in bocca, nel naso o negli occhi. Non si sa mai che quel brutto nannerotto lo si intrufoli. Bimbi, io sono andata a scuola a prendere il grano che avevamo seminato, altrimenti nessuno poteva bagnarlo. E certo, a scuola non c'è nessuno. Mica poteva bagnarlo Covid. È così piccolo che non ce la fa a prendere la bottiglia dell'acqua. Io Covid non l'ho visto. E certo, è invisibile. Chissà come sarà. Di che colore sarà. Avrà gli occhi. E quanti ne avrà? Uno, due o tre. O forse di più. O forse avrà le antenne. E le gambe? E le braccia? E la pancia? E la coda? E il sedere? Ah, che ridere! Certo che avrà il sedere. Altrimenti come fa a fare la cacca? Ma, chissà come sarà. Io quasi quasi faccio un disegno di Covid. Così come me lo immagino io. Dai, fatelo anche voi. E poi mandatemi le foto. Che voglio vedere i vostri disegni. A presto, bimbi. Mi mancate tanto. Non vedo l'ora di riabbracciarvi. Smac! Tanti baci a tutti!